Seconda visita programmata dell'ospedale di Monfalcone da parte sua, ha consegnato un documento all'azienda sanitaria. Oggi abbiamo appunto voluto essere presenti la seconda volta che ci troviamo assieme alla direzione generale e abbiamo fatto anche oggi una visita in alcuni reparti importanti, direi l'ortopedia, la diagnostica digestiva, il pronto soccorso e abbiamo soprattutto consegnato al direttore generale, visto che questo è un momento di organizzazione e di programmazione, un documento dove riassumiamo le maggiori criticità e le esigenze che questo territorio sottolinea di avere. È una realtà complessa, quella di Monfalcone e del suo territorio, una realtà su cui insistono non soltanto gli abitanti ovviamente, però grandi aziende, a novembre in Fincantieri c'erano 10.000 persone e questo non va dimenticato. È una realtà questa che ha bisogno di dare delle risposte ai fabbisogni, fabbisogni che sono importanti e su temi molto importanti. Spingiamo per avere un pronto soccorso maggiormente organizzato che dia delle risposte ai 33.000 che hanno chiesto di avere delle risposte nel 2017. Riteniamo che la pneumologia debba essere un biglietto da visita importante per le esigenze di questo territorio, che sono sicuramente quelle delle patologie importanti, asbestos correlate e che oggi di fatto non è potenziato, quindi abbiamo chiesto un brocoscopio, spazi adeguati per poter svolgere l'attività. Nello stesso tempo ci siamo rivolti anche al Direttore Generale perché riteniamo che l'ortopedia, che è stata l'eccellenza negli anni passati, debba tornare ad esserlo. La lista di attesa è molto lunga e bisogna anche lì riuscire a sbloccare la situazione dei blocchi operatori che oggi impediscono di poter dare delle risposte ai numerosissimi fabbisogni di una cittadinanza anziana che anche per il protesico, ma anche per tutto ciò che riguarda l'emergenza, oggi è in coda. Quindi un rapporto importante è questo, io ringrazio la Direzione per la presenza e per la possibilità di poter dialogare, però è arrivato il momento in cui bisogna dare delle risposte, bisogna stanziare le risorse adeguate e bisogna intervenire in maniera organizzativa perché a questi fabbisogni possa essere data una risposta quanto più rapida possibile. A rendere Monfalcone una città complessa anche la presenza di quelli che possono essere definiti fantasmi? Come ho detto anche altre volte, è una città che accoglie un numero imprecisato spesso di lavoratori provenienti dalla UE o anche da fuori UE. Per quanto riguarda coloro che arrivano e che stazionano a Monfalcone per motivazioni lavorative, molto spesso non domiciliati, non ci sono delle registrazioni tali da poter dire né il numero né la tipologia degli arrivi. Noi stimiamo siano a seconda delle lavorazioni delle navi da 3.000 a 5.000 in certi periodi e questo genera un'ulteriore complessità di gestione della situazione. L'obiettivo è che i nostri cittadini abbiano quelli del territorio, del basso isontino a cui mi riferisco, anche se serviamo molto spesso realtà del triestino come Duino Aurisina, la necessità di dare delle risposte in tempi utili perché altrimenti non ci si può lamentare delle fughe quando le risposte non sono in tempi adatti. Mi riferisco non soltanto all'ortopedia. Ecco per cui questo è un buon rapporto, è molto importante, il rapporto di dialogo e anche di conoscenza delle esigenze. Adesso a questo va abbinato però la risposta concreta con stanziamenti, con operazioni di organizzazione adeguata in tempi molto rapidi. Parlano di tagli del personale, guardando all'attività proprio politica, certamente Pordenone e la provincia di Gorizia sono tra le più penalizzate in un sistema di taglio di fatto lineare. I tagli lineari sono degli errori macroscopici sempre. Noi riteniamo che per quanto riguarda l'aspetto del personale è ora di chiudere la porta almeno uno, almeno uno diciamo il taglio del meno uno sul costo del personale 2012, ma se lo si deve continuare a fare deve essere rivolto non al sistema aziendale che è già virtuoso, ci sono delle altre realtà, mi riferisco ad esempio a quelle universitarie che potrebbero tranquillamente patire questi tagli che altri hanno già dovuto sopportare. Ritengo che il taglio economico invece ormai sia insopportabile, questa è una realtà che ha già dato e non può più dare. Oggi c'è bisogno di certezza di risorse e di adeguatezza di risorse, perché i fabbisogni sono tali e sono anche molto definiti, per i quali è ovvio che l'investimento sia tecnologico ma anche di risorse umane è una priorità e un'esigenza. Sentirei un po' sotto il naso sui tempi, lei chiede una velocizzazione dei tempi di attuazione di alcune cose importanti, non era contentissima dei tempi della risonanza magnetica, almeno il volto non mentiva. Allora, la risonanza magnetica è stata finanziata e questa è una struttura vecchia, tra virgolette, e presenta il conto non solo dal punto di vista dove metto le importantissime apparecchiature che ormai qui sono necessarie più dell'ossigeno. È chiaro che guardi, le dirò, che c'è un problema di spazi che riguarda il pronto soccorso, che non ha spazi adeguati rispetto all'esigenza. È un problema che riguarda ad esempio la pneumologia, lo sottolineavamo. È un problema che riguarda un insieme di attività che hanno bisogno di avere appunto spazi adeguati. Adesso il direttore ci ha detto che è in fase di progettazione la definizione del dove andare a sistemare questa importantissima apparecchiatura e contestualmente attendono che la gara Consip venga effettuata. Io mi auguro che si riducano i tempi che oggi abbiamo appreso essere quelli dei primi mesi del 2019 o della primavera del 2019. È chiaro che è urgente, ma perché è urgente? Sono urgenti tutte queste situazioni perché è passato troppo tempo. Dal momento in cui, via via, abbiamo, e prima di me forse io mi chiedo se sia stato fatto, abbiamo evidenziato le esigenze. Oggi, purtroppo, il tempo è scaduto e bisogna correre ai ripari molto, molto velocemente. Non soltanto per la risonanza magnetica, per il piede diabetico, per la pneumologia, per l'ortopedia, per quanto riguarda l'esigenza del pronto soccorso e tutto ciò che è di esigenza dei nostri pazienti. Le liste di attesa dell'ecodoppler al 2019 fanno rizzare i capelli.